Ciao a tutti, lui è lui, e lei è Sofì, e benvenuti in una nuova avventura col team Trote. Mi mancava il ciak. Cosa? Cose da fare penitenza, lui? L'hai scritto tu questo? Sì, Sofì. Sì? Non mi dire che è arrivato il giorno della penitenza. Sì, oggi faremo solo questo. Non ci sono altre cose da fare, solo questa è la cosa più importante. Siamo contenti della penitenza di lui. Ci piace? Ok, però qual è questa penitenza, Sofì? Non l'abbiamo deciso, non ne abbiamo parlato. Così di punto in bianco, oggi io mi sveglio qui e trovo questa scritta. Non l'abbiamo deciso, non ne abbiamo parlato, ma questo non implica il fatto che io non abbia già deciso. E cosa? Dopo un'attenta visione dei commenti sotto il video dei nerd in cui chiedevamo quale penitenza tu dovessi fare. Se non avete visto il video, il link è in descrizione per andarlo a vedere subito. Ho deciso che tu farai la penitenza delle penitenze. Cioè... Andare in giro in accappatoio. Cosa ha detto? Non l'ho deciso, io l'ho deciso loro. Sofì, come facci ad andare in giro in accappatoio? Le trote sono state. Non voglio fare più parte del team Trote. Ciao. Non puoi, hai firmato ormai. Cosa ho firmato? Contratto. Ma il contratto di che è? Mi invito al team Trote. Eh no. E' quello che dicono. Sempre e comunque. No dai, per favore. Sofì, riprì. Ma la gente cosa deve pensare se mi vede girare in accappatoio? Quello che sta realmente, cioè pazzo. Ho bisogno di restare un po' da solo. Hai bisogno di un po' d'acqua? No, ho bisogno di restare un po' da solo. Ho bisogno di un po' d'acqua. Acqua, sì. Aspetta. Eh no. No, no. No, 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 no. Mi bisogno di un po' d'acqua. Da bene l'acqua, perché mi sento... Apri, questa è acqua di tre me. Ci sono i gigoli dentro. Forza! Su! L'accappatoio ti aspetta? Ma io non ne ho un accappatoio qui con me. Tranquillo, non andiamo a comprare uno nuovo tutto per te. Potrei scegliere come sarà il colore, la forma, il materiale Io te ne consiglio uno di lana Col tempo, sai Luììì Dai, non essere triste Affronterò con coraggio e in lealtà questa penitenza Perché è giusto Sappi solo che il giorno che dovrò penitenziare te sarà tremendo Ma io non farò mai penitenza perché sono una vincitrice Credi sia così Sì, lo sarà Luì, che stai facendo? Ho perso Delfi Dovevo fare la penitenza Che senso ha? No, no, lui Ma pure scarico Non è così che si affrontano i problemi Si affrontano con positività Hai ragione Positività significa mettere un accappatoio e andare in giro Dai, lui, dammi la mano Andiamo Filippiano Quando si è diventata così forte? Allora, stiamo per comprare l'accappatoio Rosa, ovviamente Non ce la faccio Sì, sì, lui, qua L'abbiamo fatto, l'abbiamo comprato Prego, Sopio, non ce la faccio Indossalo, devi indossarlo Ma perché è rosa? Perché hai dovuto prendere rosa? Eh, altrimenti non era molto imbarazzante Dai, sei pronto? Sì? Per niente Lanciati nella folla Ti devi pensare la gente Che sei pazzo? Ah, e comunque Che sia chiaro Io non lo conosco Ma chi è lui? Boh, io sono una ragazzina così carina Così vestita bene Vai, lui? Che ne pensi? Hai anche l'etichetta No, mi scon male Luì, si chiama lui Si chiama lui Mi assumo le mie responsabilità Giusto Però, hai perso E lui mi sta benissimo Mi dono il rosa Si Comunque mi sembra che la gente non vi guardi Cioè No, no Neanche ti nota Devo dire Assolutamente no Io non lo conosco Io non ti conosco Io non so chi sei Ti piace lui vestito così? Bellissimo Sto bene Non solo lui passeggia Ma anche deve fare acquisti Vestito così Volevo comprare un forno a microonde Lui, ma non hai fretta? No, ormai mi sono abituato Anzi, mi piace Elegantissimo Sì, sì Sobrio Che altro il vero problema Sarà andare alla cassa adesso Già Andare a pagare Luì, sei pronto per andare alla cassa? Non me lo ricordare Cassa Cassa Andiamo 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 a pagare La 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 Ah, ti rendi più figo Sì Ah, bene Saluta Hai il portafoglio qua? Sto male Eh, no, no Già, questo è Fattolo Grazie Ciao Voglio scomparire Basta Basta Io non ti conosco Basta Io non so chi sei Voglio far fine Vado via Luì Ti spemo Basta Ti prego Lo posso togliere Il sole fa troppo caldo Ehm Fammi pensare No Come? Penitenza E' penitenza Nessun aiuto Solo penitenza Stiamo andando a trovare Kira Per vedere come sta oggi Luì, tu sei sempre con l'accappatoio? Sì Bene E questo è l'importante E questo è ciò che conta Arrivati Eccoci qua Voi Non avete Nia Che lontanamente Idea Di quanto caldo Faccia qui sotto Mi dispiace Luì E guarda chi c'è lì Un piccolo cagnolino Kira Kira Ehi Si è ripresa Alla grande Sembra stare benissimo Esatto Chietta Kira Cucciolina Kira Ti piace il mio Accappatoio? Vieni qua Vieni Entra nel mio mondo Wow Lui Cosa stai facendo? Sistemo le ali Al pipistrellino Kira Vieni da me Lui è veramente rispettoso Nei tuoi confronti Lui cosa stai facendo? Niente Accappatoio Eccolo qua Io eccomi qua Mi sembrava Ti tengo d'occhio Lui 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 Prendi subito l'accappatoio Dammelo Ah lo vuoi tu? Tieni No 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 Mettitelo Comunque No 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 Sei impazzita La smettiamo Non c'ho confuso Ti provo Ultimo tentativo No Mettia Aiuto Basta Per favore Tu sei impazzita No Si No Aspetta lui Un attimo No no Vabbè Tanto ho l'accappatoio Quindi non ci sono problemi No però non addosso Giusto Andiamo Mi amico di mille avventure Aspetta mi sono messo al contrario Anche Olè 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 Olà Avvocatello Che poi questo accappatoio è veramente in panda Con il costume Ti dona Guarda come volo Batman Vola Accappa Batman Voglio questa al rallentatore Fine del montaggio Grazie mille Ho avuto un'idea Ti faccio vedere io adesso a questo accappatoio Sofì Ti andrebbe un bicchiere d'acqua? Te lo sto portando Grazie Ci penso io adesso per te Brutto accappatoio Ah finalmente Ehm Niente Niente Stai tagliando l'accappatoio? No assolutamente Sofì Che pensi? Fai delle forbici È palese Ehm Non lo stavo tagliando ti dico Guarda È perfetto Visto? Adesso uscirai così No Sì 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 E neanche si capisce più che è un accappatoio Sembra che tu abbia comprato questo giubbottino in spugna Wow Ti prego Sofì Ti prego Sofì no Sì 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 Perfumatine con roba in pazza Dove vale più mezza sfida di lei Dai sono buona Basta Sì Effettivamente è già scontata la tua penitenza Addio Finalmente possiamo cancellare penitenza di lui Ciao 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 Dentro mettiamola meglio E questo fiorellino ti interessava? Lo avevi fatto tu? Sì Forse è troppo tardi Però aspetta manca qualcosa C'era scritto qualcosa No, non manca niente Aspetta Sofì c'era scritto qualcosa, tu oggi hai cancellato tutto ma c'era scritto qualcosa Penitenza di lui VENDETTA VEMPETTA C'era da fare la VEMPETTA Aspetta che lo scrivo VEMPETTA VEMPETTA con la D VEMPETTA con la D Ok La mia vendetta Ah, e anche un'altra cosa c'è da fare Trovare Delphi Tanto non lo troverai mai Trovare Pelfi Questa è una D Non è Pelfi, è Delphi Sì, sì Delphi mi manchi Ma comunque, anche la nostra avventura oggi si conclude qui Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per entrare a far parte del Team Trote Guardate il video che vi è appena apparso che sarebbe il video di ieri Noi ci vediamo alle 12 domani con una nuovissima avventura E ciao Ciao Scusami Sofì, ma tu come la fai la D? D, questa è una D Scusami Scusami Scusami